Buon pomeriggio a tutti, buona domenica e ben ritrovati qua a una nuova pillola della rassegna storia porte chiuse del Museo Civico del Risorgimento di Bologna. Io sono Giacomo Bollini, questa è una mia ennesima pillola, una mia ennesima presenza sulla pagina Facebook del museo. In queste dirette io ho già parlato più volte di Grande Guerra, per l'appunto della memoria della Grande Guerra e dei combattenti bolognesi del primo conflitto mondiale, per l'appunto in queste brevi pillole. Oggi, seguendo la scia di quello che ho già raccontato la scorsa volta, quindi con un focus ancora più approfondito sulla città di Bologna e in particolar modo sull'amministrazione Zanardi, oggi sono qui per parlare di luoghi della memoria, della Grande Guerra, a Bologna. In scorse pillole ho esplorato un pochino quelli che erano i reparti bolognesi che hanno combattuto durante la Prima Guerra Mondiale, quelli in cui per l'appunto la presenza dei soldati bolognesi era maggiore, i fronti su cui hanno combattuto e i luoghi dove ancora oggi, sparsi lungo il vecchio corso del fronte, diciamo così, c'è una memoria storica legata per appunto alla loro presenza. Oggi, in questa breve pillola, vorrei invece parlare di quello che rimane a Bologna, città proprio, di tangibile proprio che ci ricorda la Grande Guerra e quanto la città ha fatto durante quegli anni. Abbiamo visto nella scorsa pillola, che se qualcuno per caso non ha avuto l'opportunità di vedere lunedì scorso, può andare a recuperare sempre sulla pagina Facebook del Museo di Risorgimento, quanto l'amministrazione comunale si fosse prodigata per la propria cittadinanza, per la propria popolazione. Quindi, istituendo questi negozi dove c'erano prodotti calmierati e soprattutto costruendo, ad esempio, un forno, un forno comunale dove si poteva cuocere il pane da vendere in questi negozi calmierati, di pura iniziativa quindi comunale. Molti di questi luoghi che ci parlano per l'appunto di quanto ha fatto l'amministrazione comunale durante la Prima Guerra Mondiale a Bologna, sono ancora oggi visibili. Mi ricollego per l'appunto al forno di cui parlavamo poco fa e di cui ho raccontato l'utilità nella scorsa pillola. Ebbene, questo forno che si trovava in quello che oggi è lo stabile che ospita il Mambo, il Museo delle Arti Moderne di Bologna, c'è una lapide che lo ricorda, che è esattamente all'angolo fra via Zamboni e via Fratelli Rosselli, che quindi per l'appunto ci ricorda l'utilità di questo edificio durante gli anni della guerra. Ma ci sono anche due simboli, diciamo, della nostra città, due simboli per eccellenza della nostra città, che sono in qualche maniera ricollegabili alla memoria storica della Prima Guerra Mondiale. Parlo del Nettuno, della statua del Nettuno. Forse alcuni di voi avranno avuto l'opportunità di vedere, per esempio, su Storie e Memorie di Bologna, il sito portale del Museo Civico del Risorgimento di Bologna, che raccoglie, per l'appunto, storie, foto, dettagli, biografie degli uomini bolognesi che dall'unità, dal risorgimento, oggi hanno fatto la storia della nostra città. Foto, per l'appunto, del Nettuno ingabbiato in una struttura linea e di sacchi di sabbia, a protezione di potenziali bombardamenti austriaci. Logicamente, parlando di bombardamenti, la nostra memoria storica viaggia subito alla Seconda Guerra Mondiale, quando la nostra città è stata profondamente colpita dalle incursioni aeree alleate, in particolar modo. Ma il pericolo bombardamento c'era anche durante la Prima Guerra Mondiale. Furono soprattutto città del nord, comprese Milano, ma penso anche a Padova, a Verona, che furono colpite particolarmente da dei bombardamenti austriaci. Bologna era attrezzata, diciamo così, per respingere e dare l'alarme alla cittadinanza in caso di incursione aerea austriaca, ma non fu mai colpita direttamente. L'unico caso avvenne il 29 settembre 1917, quando il sistema di allarme messo a punto dal Comune di Bologna entrò in funzione e, con anche un discreto panico, si attese per qualche ora l'arrivo dei velivoli austriaci. In che cosa consisteva questo sistema di allarme? Innanzitutto in uno scampanio diffuso che partiva dal campanone del Palazzo del Podestà e Sib doveva poi riverberare per tutta la città con le campane delle varie chiese. Ma in particolar modo anche con un sistema di allarme dato, come si può dire, da dei petardi, da dei mortaretti che venivano sparati, in particolar modo per esempio, dalla Torre Asinelli, che fungeva da osservatorio contro le incursioni aeree. Il 29 settembre l'incursione aerea era sì diretta verso l'Emilia Romagna, diciamo così, ma non si sa con precisione dove avrebbe dovuto colpire, ma fu fermata da un sistema di contraerea a cavallo del Po in zona Ponte Lago Oscuro e quindi non arrivò mai a minacciare Bologna. Però il sistema di allarme funzionò e dette per l'appunto un preavviso alla popolazione che poteva in qualche maniera mettersi al riparo. Quindi ecco qui abbiamo visto Nettuno e Torre Asinelli, quindi le due torri, due simboli della nostra città che in qualche maniera sono comunque ricollegati alla memoria storica della Prima Guerra Mondiale. Sempre nella scorsa mia breve pillola ho parlato dell'importanza di Bologna per quanto riguardava la presenza di caserme. Si può dire che fosse una città militarizzata Bologna, abbiamo già visto che era stata dichiarata per la sua importanza strategica sia dal punto di vista anche ospedaliero delle comunicazioni, il polo ferroviario per l'appunto di Bologna, fosse stato dichiarato territorio in stato di guerra, il territorio cittadino bolognese. E come abbiamo visto in alcune mie pillole riguardanti per l'appunto i reparti bolognesi durante la Prima Guerra Mondiale, abbiamo visto come vi fossero molti reparti che avevano sede e deposito in quel di Bologna. Ancora oggi lo vediamo girando per la nostra città che c'è una massiccia presenza di caserme. Tanto per citarne alcuni, la grande caserma sotto il colle che ospita il Rizzoli, il colle di San Michele in Bosco, c'è la grande caserma dell'attuale Staveco, che era una caserma della Prima Guerra Mondiale, insomma di fine ottocento, allargata a fine ottocento che ospitava per l'appunto i reparti bolognesi. Il comando dei reparti bolognesi si trovava in particolar modo alla caserma Cialdini, in via Urbana, e addirittura gli uffici si trovavano in pieno centro, in quella che adesso è via Manzoni. Lì c'era sede per l'appunto del comando del sesto corpo d'armata. Ma non sono solo queste due le caserme storiche di Bologna, penso anche alla caserma che ospita adesso aule universitarie, in le aule di Santa Cristina, per l'appunto, in zona via Fondazza e via del Piombo. Lì all'epoca c'era una caserma dei bersaglieri e tuttora se si varca il cancello di entrata per l'appunto alla struttura universitaria della zona di Santa Cristina si possono vedere sul muro delle vecchie incisioni fatte dai soldati di guardia nelle garitte per l'appunto all'entrata di questa struttura. Un altro posto che ancora oggi è in qualche maniera ricollegabile quindi alla presenza massiccia di militari a Bologna durante la Prima Guerra Mondiale è i Prati di Caprara. I Prati di Caprara fin da tempo antico erano stati battezzati come il campo di Marte, diciamo così, della città di Bologna, una zona in cui potevano avvenire le parate, in cui si svolgevano le esercitazioni militari, anche a cavallo, e che all'inizio del Novecento, quando nacque l'arma aerea, furono adibite a piccolo aeroporto bolognese. Pochi sanno che dall'aeroporto dei Prati di Caprara partì, nonché in un certo momento ritornò con anche una nutrita presenza di pubblico al suo arrivo, un velivolo guidato da Francesco Baracca, l'asso degli assi dell'aviazione italiana durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi un altro luogo dove oggi c'è una massiccia presenza militare, un caserme sebbene in gran parte in disuso, che ci testimoniano l'importanza di quell'area. Ma non sono solo le strutture adibite proprio ad ospitare i militari a ricondurci alla memoria storica della Prima Guerra Mondiale in quel di Bologna. Abbiamo visto che la città era importante anche dal punto di vista sanitario, gli ospedali bolognesi traboccavano di feriti provenienti dal fronte e in particolar modo il Rizzoli divenne un'eccellenza per la costruzione delle protesi per i soldati mutilati. Già in una pillola precedente la collega Anna Grillini ha raccontato con dovizie di particolari l'importanza della casa di riabilitazione per questi soldati, strettamente collegata a quanto faceva il Rizzoli in fatto di protesi, che si trovava nella loro piazza Foro Boario, attuale piazza 33 Este. Ovviamente questa struttura oggi non c'è più ma ci testimonia comunque quanto a Bologna ci si prodigasse anche per reinserire questi soldati menomati mutilati nella vita futura che li attendeva. Ovviamente mi sono dimenticato di dire l'invito è quello come sempre di andare ad approfondire sul sito, sul portale Storia e Memoria di Bologna quanto accennato in queste breve pillole. Tutto quello che sto dicendo è quindi assolutamente presente in varie schede in maniera dettagliata e con vari collegamenti e foto. Un'altra cosa molto simpatica che ancora oggi si può andare a visitare e vedere tangibilmente all'interno proprio del nostro tessuto cittadino è una delle case del soldato di cui era tappezzata Bologna. Che cos'era la casa del soldato? Era un luogo in cui il soldato a riposo in questo caso quindi a Bologna in retrovia casomai appena dimesso o in licenza dimesso per l'appunto da un ospedale poteva andare a distrarsi divertirsi. C'erano infatti aggregate attaccate a queste case del soldato piccoli teatri, sale cinematografiche ma anche sale in cui si poteva andare a scrivere quindi veniva fornita carta assistenza per l'appunto a chi non sapeva scrivere oppure si poteva ricevere anche assistenza legale quindi c'era la presenza di una figura cui ci si poteva riferire all'interno di questa casa per eventuali traversie legali sorte durante il servizio militare. Ebbene a Bologna una di queste case del soldato è ancora assolutamente visibilissima praticamente intonsa come era cento e più anni fa. Si trova adesso in via San Vitale 40 è in un interno solitamente aperto quindi facilmente accessibile e si trovava all'interno di una proprietà privata di una di una contessa la contessa Cornelia Martinetti che di propria spontanea iniziativa coordinata da don Antonio Bottoni per l'appunto creò questa questa casa del soldato per i soldati in in licenza o appena dimessi dagli ospedali bolognesi. Molto bella molto ben tenuta dall'attuale proprietà merita una piccola visita quindi potrebbe essere un'occasione anche questa per tornare a guardare la nostra Bologna proprio adesso che fra poche ore si potrà tornare anche a passeggiare in giro per le nostre città approfittarne per coniugare quindi una visita storica a un come si può dire a un viaggio di necessità all'interno delle nostre delle nostre strade. E ovviamente una delle uno dei luoghi più significativi della grande guerra a Bologna è il lapidario di Santo Stefano presente all'interno del complesso delle sette chiese che è un vero e proprio unicum probabilmente in Italia. A Bologna fino a un certo periodo non fu creato un monumento ai caduti vero e proprio un monumento ai caduti della grande guerra vero e proprio. Sorse quindi all'interno di un chiostro delle sette chiese questo luogo particolarmente evocativo particolarmente solenne in cui furono poste delle lapidi soddivise per per anno ma in particolar modo per settore del fronte dove sono riportati i nomi dei caduti bolognesi. Un luogo ancora oggi al 90% intatto rispetto a come era cento anni fa un luogo altamente toccante che senza dubbio tocca la sensibilità di chi lo va a visitare. Bologna ebbe il suo monumento ai caduti nel 1933 quando fu inaugurato il monumento ossario della grande guerra incertosa. Questo grande monumento fu inaugurato nella data per l'appunto significativa del 4 novembre nel quindicesimo anniversario della fine della guerra e ospita le salme di circa 3000 soldati italiani. Ma non solo italiani sono presenti all'interno delle due grandi cripte anche le lapidi in ricordo e i piccoli loculi in ricordo dei caduti austro-ungarici caduti prigionieri in quel di Bologna casomai in un ospedale o in uno dei campi di lavoro chiamiamoli così sparsi per le campagne bolognese dove questi prigionieri austriaci austro-ungarici lavoravano in particolar modo nei lavori della bonifica renana. Questo grande monumento ossario si trova all'interno del chiostro sesto della Certosa ed è composto da due corpi circolari interrati uniti da un corridoio e coperti da due calotte in pietra distria quindi il collegamento per l'appunto è con le terre irredente le terre liberate con coperte ulteriormente da dei lucernari in alabastro dai quali filtra una luce fioca proprio per dare anche un'atmosfera di solennità a chi li visita. All'esterno due grandi statue di fanti quelli che vengono chiamati il vecio e il boccia per dire alla Veneta un soldato giovane e un soldato alziano per l'appunto a significare anche lì il contributo sia dei novellini dei famosi ragazzi del 99 insomma di quelli delle classi degli anni 90 ma anche delle classi più anziane quelle degli anni 80 se non addirittura degli anni 70 che servirono durante la guerra. Lo scultore di questi due soldati è Ercole Drey. L'8 agosto 1940 fu collocato in un'altra data altamente evocativa per la storia bolognese questo invece ne ha parlato dell'8 agosto il collega Andrea Spicciarelli fu collocato per l'appunto nell'8 agosto 1940 il sarcofago con le spoglie di Ugo Bassi all'interno del monumento ossario anche qui per significare nell'apoteosi come si può dire della rimembranza e del collegamento con il risorgimento italiano però appunto probabilmente la figura bolognese più importante del risorgimento italiano. Ma all'interno della Certosa c'è un altro luogo altamente evocativo oltre a tante sepolture private più o meno raggruppate c'è un chiostro il chiostro ottavo che è quello che viene toccato più spesso per esempio dalle visite dai giri turistici fatti in Certosa per l'appunto sulle tracce della grande guerra per ricordare i caduti bolognesi. Qui ci sono alcune fra le tombe più belle dedicate ai caduti della grande guerra di tutta la Certosa penso per esempio a quella di Ferdinando Forni, a quella di Ariondo Andreini, a quella dell'avviatore Amedeo Amur, a quella di Italo Roversi, a quella della medaglia d'oro Corrado Mazzoni, insomma nomi che agli addetti ai lavori possono ricordare sia i monumenti sia i militari. All'interno di questo chiostro c'è addirittura anche sempre qua in maniera molto evocativa e che ne esalta il collegamento storico il monumento ai caduti in Russia ovviamente della campagna di Russia della seconda guerra mondiale. Quindi con questa rapida, rapidissima carrellata abbiamo toccato come abbiamo visto alcuni dei punti salienti della città dove la memoria storica della prima guerra mondiale è tangibile e ben visibile. Inutile andare poi a ricordare tutte le lapidi sparse ad esempio dentro alle scuole, alla già accennata in una mia precedente pillola tomba lapide del liceo Galvani, ma penso anche da ex minghettiano alla lapida all'interno del liceo Minghetti, dell'istituto Pacinotti o del collegio di San Luigi, insomma tutte le scuole e tutte le istituzioni anche sportive bolognesi collocarono una lapida a ricordo dei propri caduti. Quindi anche la nostra Bologna distante centinaia di chilometri dal fronte riporta una memoria storica tangibile e visibile della prima guerra mondiale come se fosse esattamente un luogo di guerra. E con questo io vi ringrazio dell'attenzione e vi rimando alla prossima pillola raccomandandovi come sempre di andare a consultare storie e memorie di Bologna. Grazie e buona domenica!